Professor Rosina, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà dei giovani dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche dell'integrazione, dal punto di vista della categoria della speranza. Però se un giovane delle case bianche dice la musica mi ha dato felicità e io ho riscoperto l'orgoglio del mio quartiere per dire che non siamo tutti come ci dipingono, è un bel segno? È assolutamente il segno dal quale si può ripartire con fiducia investendo sui giovani e dando a loro la possibilità di tirare fuori il meglio di sé perché i giovani anche dalle ricerche dell'Istituto Toniolo emerge appunto un ritratto di un grande desiderio di dare un senso alla propria vita e di dar valore alle proprie scelte e di dimostrare quanto valgono ma anche una grande domanda di avere un contesto vicino che sia di supporto e sia di incoraggiamento e quando questo c'è effettivamente i risultati si vedono. Ecco dal Toniolo, dalla ricerca del rapporto giovani che è una ricerca in progress, se dovesse dire il dato fondamentale siamo ancora in mezzo al guado di difficoltà grandissime anche dovute alla crisi per i giovani o qualche luce si vede? Qualche luce si vede, la si vede ancora di più in Lombardia nel contesto milanese perché effettivamente se si confronta con la condizione dei giovani nel resto del territorio italiano si vede che qui qualcosa sta succedendo che i giovani qui trovano effettivamente incoraggiamento e opportunità che non trovano altrove che sono ancora però più basse rispetto ad altri contesti europei ma che sono in un percorso in cui si può fare di più e si può diventare protagonisti di una città che attraverso di loro riscopre la voglia di contare, di essere aperta nel mondo di dare risposta alle grandi sfide che riguardano le vite di tutti, in particolare quella dei giovani questa voglia di tirare fuori qualcosa che sia un risultato positivo all'interno del quale i giovani fanno la differenza cioè danno la loro impronta a Milano, la si intravede di più che altrove ed è in crescita senz'altro Insomma i millennials hanno più possibilità e magari le periferie possono diventare un laboratorio Sì ecco la sfida più grossa è proprio quella delle periferie ed è lì che si vedono i segnali più interessanti cioè dove si combina innovazione e inclusione, cioè la possibilità dei giovani di parlare con il proprio linguaggio di utilizzare strumenti diversi dalle generazioni precedenti e di farlo aiutando chi è outsider, chi è nuovo a diventare soggetto attivo di produzione di nuovo benessere, lì si vedono risultati positivi e si ottengono i maggiori miglioramenti perché si parte da più indietro e si riesce a portare i giovani ai risultati più avanzati